Non sono mancate le polemiche nell'ultimo Consiglio Comunale di Parona, il primo dopo l'insediamento del sindaco Massimo Bovo. A far discutere è stata l'approvazione dell'aumento della Tari, la tariffa dei rifiuti, che salirà del 5% nel centro di circa 2.000 abitanti. Un balzello, come spiegato dal primo cittadino, giustificato dal cambiamento del servizio della differenziata con il nuovo gestore, la ditta Sangali di Monza, oltre che dalle nuove regole imposte da Rera, l'autorità che stabilisce il costo dei rifiuti. Con l'introduzione del porta a porta da inizio anno, le spese per i rifiuti a Parona sono aumentate a 90.000 euro. Di questi, 78.000 euro saranno però coperti dai contributi in arrivo dal termo valorizzatore, come precisato dal sindaco Bovo. La minoranza, rappresentata da Renato Soffritti, ha però espresso la propria contrarietà, ricordando in una nota come, nonostante i contributi dell'inceneritore, il piano economico finanziario appena approvato, preveda comunque degli aumenti sui rifiuti. Inoltre, secondo l'opposizione, in altre realtà, come ad esempio Novara, i costi del porta a porta sono molto più bassi in rapporto alla popolazione. A Vigevano, ad esempio, il costo si attesta intorno ai 290 euro all'anno, mentre a Novara è di 209 euro, 100 in più di quanto si paga mediamente a Parona, secondo quanto affermato da Soffritti in Consiglio. Non è chiaro perché i maggiori ricavi derivanti dal recupero e dal reciclo dei materiali non abbiano portato a una riduzione delle tariffe a Parona, ma piuttosto a un loro aumento, ha concluso Soffritti, che ha ricordato, infine, se fosse stata la nostra coalizione a governare, l'intenzione era di azzerare la Tari per i cittadini, utilizzando i contributi del termo valorizzatore.